Da non perdere è una passeggiata a Castello Norato, un'antica frazione collinare di Formia dall'aspetto affusolato, tanto da farla sembrare una nave adagiata sulla roccia. Situata a 310 metri sul livello del mare, la frazione di Castello Norato originariamente era difesa da un'unica porta e da un'alta torre. Ancora oggi è possibile attraversare l'antica porta d'accesso, cosiddetta Suppigno, zona di quarantena. Di particolare pregio, l'arco ogivale. Proseguendo si arriva dinanzi la chiesa madre di Castello Norato, intitolata Santa Caterina d'Alessandria. Il suo campanile è impreziosito da una maiolica con lo stemma dell'allora comune di Castello Norato. Il borgo è percorso da un'unica strada, da cui perpendicolarmente si diramano le viuzze, tutte apparentemente senza uscita, che regalano improvvisamente degli scorci panoramici incantevoli.